Da una parte non è stata smentita la voce che Berlusconi anziché incontrare i magistrati possa ricorrere a un memoriale scritto che quindi naturalmente evita qualsiasi tipo di contestazione, dall'altra il gruppo parlamentare alla Camera è davvero in fermento, non solo è stata fatta una prima interpellanza urgente contro quella che il PDL ritiene una fuga di notizie, ma se ne sta preparando addirittura un ulteriore allargamento alla quale Palma e il Ministro della Giustizia dovrà rispondere ad Oras, quindi addirittura forse giovedì, nella quale viene contestato come sono stati scelti i testimoni da sentire, in quale modo sono stati sentiti, per quale motivo in questi interrogatori sono stati rivelati pezzi di altri interrogatori, il che poi ne ha portato alla diffusione sui giornali.